Qualche faccia la conosco, molte non le ho mai viste, ma sicuramente se siete diventate momentaneamente cittadini di Alvese, vi vedete qui, ci conosceremo il bar, il panettiere, altre cose, state attenti perché qui gli esperti di pallavolo a Alvese stanno aumentando in maniera esponenziale, per cui preparatevi alle domande, alle norme, alle attenzioni. Sì, la palestra è una bella struttura, se ancora la vedrete, magari vi avviso che stasera se dovete fare una doccia sarà di quelle che normalmente pagate per faccia, caldo prima, freddo dopo, ecco, il freddo dopo lo offriamo per oggi, domani sarà tutto a posto, o spero anzi anche in maniera di trovare chi già stasera troverà tutto a posto. Basta che dirvi, sono contento che Graziano abbia ricordato che l'Alpa è del Mese con Casano, ricordatevelo, mi sembra che abbia anche una presentazione anche in un posto minore qualche altro giorno, con un sin, ecco, voi siete la squadra del Mocca, scherzi a parte, sono contento e magari facciamo qui un regalo, una bella partita di precampionato, un allenamento condiviso con una squadra bella al Palapedretti, così almeno una volta, cittadini di Alvese dovranno fare poca strada per venire e poi capiranno che vale la pena fare altri 15 km per venire e venire in campionato.